che è un tenente di vascello della malina militare, Benedetto Esposito, e con lui avevamo avuto l'idea di venire qui a venire i due castelli. Purtroppo non è stato possibile per i motivi che sappiamo. Poi ci siamo incontrati a Taranto con lui, appena ho visto che c'era Brindisi, ho detto guarda dovremmo venire, da lì è nata questa idea, questa conoscenza e ci aveva anticipato che c'era il grande Giacomo che aveva l'asso nella manica che ci faceva da guida. Io insegno di ringraziamento a te e a questo punto anche a Giacomo, poi magari te lo tengo io, dovete aprire, questo è il nostro pensiero per voi due, un pensiero che un po' ricorda il nostro territorio. Noi siamo terra dei Peucetti, voi siete terra dei Messapi, quindi abbiamo questo incontro tra i due paesi. E cosa ci unisce? È la terracotta. Certo, poi Rudigliano e i fischietti di Rudigliano. Ecco, guarda.